Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno a parlarvi, e spero per l'ultima volta, della questione RC Auto Familiare. Sapete che l'ho seguita da quando tutto è iniziato, qualche mese fa, fino a sabato scorso, quando vi ho portato il video per dirvi che effettivamente era ufficiale, entrava in vigore, e spiegarvi un po' un riassunto su come funzionava. Ora, sappiamo che l'RC Auto Familiare è ufficialmente in vigore a partire da domenica, 16 febbraio, e quindi il 17 lunedì si poteva andare alle varie assicurazioni e richiedere dei preventivi, per chi voleva passare con l'RC Auto Familiare. Nel video di sabato vi ho chiesto dei feedback, cioè vi ho chiesto se comunque andate in settimana a chiedere le varie assicurazioni, fatemi sapere un po' cosa vi rispondono. Ed effettivamente mi avete comunque risposto in tanti, trovate i commenti se volete nel video di sabato, lo trovate nella playlist qua sul canale YouTube. In molti avete scritto anche su Instagram che effettivamente le assicurazioni vi hanno fatto i preventivi ed effettivamente c'erano dei risparmi, in tanti vi avete parlato di una media di 100, 150, 200 ore in meno sfruttando l'RC Auto Familiare. Ora, un piccolo appunto, magari qualcuno si aspettava, non lo so, di pagare la metà, il 50%, però ragazzi, l'RC Auto Familiare, diciamo, permette di risparmiare tanti soldi alla famiglia, questo che si chiama RC Auto Familiare, no? Al singolo, qualche centinaia di euro, però la famiglia, l'intera famiglia è lì che va a risparmiare, no? Vi ho fatto un esempio, un video di una simulazione che ha fatto un sito, mi sembra facile.it, dove prendeva per esempio, come esempio, una famiglia di Milano che pagava annualmente, la famiglia intera, circa 2.000 euro per le varie assicurazioni, per le varie polizze, sfruttando l'RC Auto Familiare andavano a pagare l'intera famiglia circa 50%, quindi da 2.000 a 1.000 euro, però ovviamente 50% spalmato sulla famiglia, singolarmente si va a risparmiare 100, 200 euro, che comunque, ragazzi sono dei bei soldi, e poi ovviamente mettendoli insieme singolarmente, salta fuori il 50% quello che ha simulato un po' il portale facile.it. E poi un'altra parte comunque di utenti che mi hanno risposto anche su Instagram, mi hanno detto che, se sono andate le assicurazioni, gli hanno detto che non potevano usufruire dell'RC Auto Familiare. Perché? Perché di fatto non avevano in mano un attestato di rischio dei 5 anni precedenti. E quindi mi avete chiesto un po' spiegazioni, no? Perché io vi ho detto quali erano un po' le regole per poter richiedere l'RC Auto Familiare, così come comunque, diciamo, una legge è stata concepita, quello che tutti i siti hanno riportato, effettivamente però non si parlava di un attestato di rischio, no? E quindi faccio questo video perché? Perché mi sono informato. Ho chiesto soprattutto, vabbè, a varie assicurazioni e stamattina ho chiesto anche un ragazzo che mi segue sulla pagina e anche qua su YouTube, Edoardo, che lavora per le generali, lui è un assicuratore. E si è fatto arrivare, qualche giorni fa, mi ha detto che gli è arrivato un po' tutto quello che concerne l'RC Auto Familiare, cioè come linee guida per la generali, l'assicurazione generali, per stipulare appunto l'RC Auto Familiare. E me ne sono stampate, gli ho chiesto se mi faceva un riassunto, cioè a grandi linee dirmi, fa mio riassunto su tutte le linee guida che la generali segue per stipulare un'RC Auto Familiare, e sono qua quindi per parlarvene. Quindi ragazzi, diciamo che questo qua, questo che vi dirò, che vi andrò a leggere, è un po' come le assicurazioni hanno inteso l'RC Auto Familiare. Questo perché? Perché la legge dice una cosa, però diciamo che lo mette giù in maniera un po' generica, un po' interpretabile a piacimento. Ed effettivamente le assicurazioni, alcune, non tutte, ma alcune assicurazioni hanno interpretato, diciamo, l'RC Auto Familiare in una maniera tutta loro. Ed è per questo che alcuni sono riusciti a farsi fare preventivi, altri invece no. Quindi qua parliamo della generali. se doveste comunque avere problemi quando magari chiamate Facile.it, perché in tanti mi hanno detto, ho chiamato Facile.it, fammi fare un preventivo della mia polizia, mi hanno detto che non è possibile perché manca l'attesato di rischio. Quindi per chi ha avuto problemi, adesso vi spiego effettivamente come funziona dal punto di vista delle assicurazioni. Prima di partire però vi ricordo, anche se già ve l'ho detto mille volte, l'RC Auto Familiare come funziona. Cioè quali sono meno i requisiti che noi sapevamo, per la legge come doveva essere fatta. Di fatto l'unico paletto per l'RC Auto Familiare era che non si erano fatti sinistri incidenti nei cinque anni precedenti alla richiesta dell'RC Auto Familiare. Oltre a questo ovviamente chi faceva, chi stipulava l'RC Auto Familiare, chi la chiedeva, doveva far parte di un nucleo familiare, doveva essere in grado di fornire lo stato di famiglia. Quindi dimostrare che era convivente con gli altri membri della famiglia sotto lo stesso tetto. Questi qua di fatto erano gli unici requisiti. Ed effettivamente mi rendo conto, messa giù così, è facilmente interpretabile in altro modo dalle assicurazioni. Qua parliamo delle assicurazioni, un po' come se fossero le compagnie telefoniche. Se si riescono ad aggrappare un minimo appiglio, lo fanno. Quindi probabilmente diciamo che l'RC Auto Familiare doveva essere scritta in una maniera un po' più dettagliata, per cercare di dare dei paletti. Invece così, diciamo, è andata un po' la possibilità dell'assicurazione di alcune, non tutte, di interpretare la legge un po' in maniera loro. E vi ricordo, prima di leggervi questo, che hanno introdotto con l'RC Auto Familiare, pochi giorni fa, prima che arrivasse ufficialmente, che si potesse richiedere ufficialmente a partire da domenica, quindi lunedì hanno introdotto il malus. Il malus che cos'è? Se qualcuno che ha l'RC Auto Familiare fa un danno che supera un indennizzo pari a 5.000 euro, viene scalato fino al massimo di 5 classi. Quindi se è in prima, in base all'assicurazione, al tipo di clausola che ha, diciamo, può essere portato fino alla sesta classe. Quindi qualcuno magari applica due classi di demerito, qualcuno applica tre, qualcuno applica al massimo cinque classi di demerito. Questo quindi è l'RC Auto Familiare. Così come la conoscevamo. Qualcuno non ha avuto problemi, qualcuno ha avuto problemi. Quindi io vi leggo, per chi ha avuto dei problemi, come molte assicurazioni hanno inteso l'RC Auto Familiare. Qua vi dicono quali sono i requisiti. Quindi di fatto, chi lo può fare, vi parla anche del malus, e chi può farlo, chi non può farlo, insomma. Quindi vi lascio qui di fianco anche gli screen se volete leggerli. Sono due pagine. Allora, è un po' lunghetta, però effettivamente serve, perché l'RC Auto Familiare, ragazzi, permette di risparmiare molti soldi, come dicevo all'inizio. Anche possono 200 euro per una persona all'anno, capite bene, che il nucleo familiare le risparmio è molto grosso. Quindi qua parliamo della Generali, quindi questo è un testo che mi ha mandato la Generali. Dunque, le modifiche dell'articolo 134,4 bis del codice delle assicurazioni private hanno esteso l'ambito di applicazione del bonus familiare Bersani consentendo di usufruire della miglior classe di merito maturata per un determinato veicolo nell'ambito familiare, non solo in caso di nuova stipulazione per un ulteriore veicolo acquistato da uno dei familiari conviventi, come già previsto ora, ma anche nel caso di rinnovo del contratto assicurativo di uno di questi familiari, purché, attenzione, questa è la cosa importante, esente da sinistri negli ultimi cinque anni valorizzati e senza ne hanno un assicurato come da attestato di rischio e inoltre non sono non solo per un veicolo della stessa tipologia come già previsto ora, ma anche per un veicolo di diversa tipologia, ad esempio moto vc auto, nel senso che l'R18 famigliare ve l'ho spiegato, vale per qualsiasi mezzo che sia un trattore, che sia una moto, che sia uno scooter si può richiedere senza problemi, senza restinzioni di mezzo quindi pongo l'attenzione sulla parola valorizzati molto importante perché se ad oggi io con traente ho una moto intestata ma con soli tre anni di attestato di rischio non posso usufruire dell'RC auto famiglia stesso discorso in caso di sinistro ci sono i cinque anni ma un sinistro non posso usufruire dell'RC auto familiare in parole povere l'attestato deve avere cinque anni immacolati puliti zero sinistri l'attestato di rischio che viene menzionato qua di fatto è un documento nel quale sono trascritti tutti i sinistri che avete commesso negli ultimi cinque anni di fatto chi tiene questo documento lo tiene l'ANIA che è l'associazione delle assicurazioni in un database quindi diciamo che voi ci potete accedere per vedere un po' qual è il vostro attestato di rischio da un sito da un sito web dell'assicurazione quindi è importante bisogna avere questo attestato di rischio degli ultimi cinque anni e deve essere ovviamente immacolato nel senso non dovete aver fatto incidenti durante gli ultimi cinque anni e prosegue allora non c'è stato detto nulla sull'età del mezzo quindi l'immatricolazione non fa conto posso avere non fa conto posso avere una moto del 2000 c'era un punto posso avere una moto del 2000 come una più recente vige quanto detto sopra ovvero tutto ciò che riguarda l'attestato di rischio quindi diciamo che il mezzo non conta se è nuovo oppure se è vecchio anche se è vecchio non è importante ovviamente questo con la mia agenzia si qua ovviamente l'assicuratore me lo specifica perché parliamo comunque delle linee guida della generale che possono cambiare per esempio dall'AXA oppure dalle altre assicurazioni le altre non so come vorranno interpretare il tutto infatti fa notare che diciamo che è un po' troppo è liberamente interpretabile un po' questa Rcioto familiare per quanto riguarda la parte meno bella qua andiamo al malus a quello che hanno introdotto ovvero quella legata ai sinistri viene detto che in caso di sinistro che richi un danno superiore a 5000 euro il contraente rischia di perdere fino a 5 classi di merito sull'attestato di rischio e non 2 come risulta ad oggi inoltre non ho trovato nulla nel caso i sinistri siano 2 si qua mi ha fatto notare ne avevamo parlato anche che effettivamente essendo così poco specifica questa Rcioto familiare anche nel discorso malus non fa riferimento per esempio invece di fare un incidente uno ne fa due non si sa bene cosa succeda e quindi per questo che dico che è liberamente interpretabile cioè doveva essere scritta con molti più paletti no? così le assicurazioni potevano evitare diciamo di interpretare liberamente ovvero ad oggi con il primo sinistro salti di due classi con un eventuale secondo sinistro nell'annualità del contratto saltavi di ulteriori tre classi e così via con un nuovo decreto non viene spiegato cosa succede appunto se un motociclista faccio in un anno di contratto due sinistri con danni superiori a 5.000 euro questo è già un problema a mio avviso scrive se i danni sono inferiori a 5.000 euro vige la regola attuale ovvero salti di due classi e così via quindi sappiamo che nelle assicurazioni se per esempio uno è in prima e fa un danno in automatico si salta di due quindi si passa in terza e si va a pagare di più premio anno alla fine alla fine dell'anno riassumendo posso usufruire dell'RC auto familiare sia per nuova stipula sia in fase di rinnovo se questi qua sono i requisiti attestato di rischio di 5 anni valorizzati e senza sinistri quindi non ho fatto incidenti durante i 5 anni precedenti e ho l'attestato di rischio non posso usufruire dell'RC auto familiare se attestato di rischio con meno di 5 anni valorizzati quindi se ho un attestato di rischio di 3 anni non posso richiederla che è quello che vi dice il centralino di facile.it e attestato di rischio con 5 anni valorizzati ma con uno più sinistri quindi se ho fatto incidenti come ho detto prima non si può richiedere che è un po' quello che diceva anche l'RC auto familiare quando l'hanno l'hanno mostrata per la prima volta quindi ragazzi queste sono le linee guida della generale quindi se avete problemi e vi fanno storie ecco adesso sapete il motivo e quindi per questo ringrazio Edoardo che è appunto un assicuratore che mi segue che mi ha spiegato un po' come funziona perché effettivamente non capivo come mai i centralini di facile puntuita o alcune assicurazioni parlassero di attestato di rischio perché comunque diciamo che la ricetta familiare la legge così come l'hanno detta non parlava di attestati ma semplicemente diceva basta non aver fatto incidenti nei cinque anni precedenti quindi alcuna assicurazione ne hanno interpretata quindi detto questo ragazzi fatemi sapere magari nei commenti se avete provato comunque a richiederla fatemi sapere cosa vi hanno detto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi una seconda di youtube con l'instagram il DNA del bacchero ufficiale noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao